Il progetto di cui stiamo parlando? È un progetto che è stato possibile realizzare grazie al contributo e all'approvazione e al sostegno di Volabò ed è un progetto che ha visto un approfondimento, una collaborazione tra diverse province sul lavoro di doposcuola, cioè l'attività di accoglienza dei ragazzi della fascia scuola media 11-15 in alcuni pomeriggi per dare una mano nei compiti ma anche per creare momenti di aggregazione. Questa esperienza è possibile grazie a quattro componenti, la prima è l'Arci, l'Arci che ha messo a disposizione gli educatori, ci vogliono risorse, la buona volontà non basta, ci vogliono appunto perché noi crediamo che servano degli educatori professionali. Poi viene l'associazione di volontariato di cui io faccio parte, in questo caso Arci Solidarietà Corticella e che è comunque fondamentale perché è radicata sul territorio, quindi ha i legami con le istituzioni locali, con la scuola, con il quartiere, con le altre associazioni, con le altre realtà organizzate, con le famiglie, quindi è un supporto molto importante, ma poi ci sono gli spazi, ci sono le attrezzature, il comune che dall'anno scorso ci ha messo a disposizione parzialmente gli spazi e da quest'anno completamente perché i nostri spazi erano troppo limitati, quindi anche questa è una collaborazione importante e ultimo ma non ultimo, ma cito per ultimo perché mi serve poi per procedere col discorso, la collaborazione con il Centro Servizi del Volontariato che in questi anni permette di portare avanti dei progetti specifici. Ci vuole un villaggio intero per educare un bambino, è un proverbio africano che ci è sembrato l'incipit migliore con cui promuovere questo documento perché secondo noi costudisce in poche parole il messaggio pedagogico che l'Arci vuole trasmettere. L'Arci è un'associazione che ha nella sua vita, nel suo essere, il senso di comunità, infatti non vuole e non può dimenticare il senso educativo della relazione. L'Arci quindi è naturalmente educativa, come dicevamo appunto con i suoi circoli, crea questo villaggio fatto di persone diverse che tutti insieme devono andare a fondare quella che è questa comunità educante, una comunità dove tutti devono prendersi cura dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dal commerciante ad arrivare all'educatore che lo fa invece di professione. Il rapporto con le nuove generazioni rappresenta il vero investimento sul futuro e temi come le pari opportunità, l'intercultura, la partecipazione democratica, il diritto allo studio e l'accesso anche alla cultura ormai forse difficile sono alla base del lavoro educativo che l'Arci fa ogni giorno, quindi nella sua pratica quotidiana ma anche nella progettazione. Un progetto educativo è però necessariamente anche un progetto politico, è un progetto che deve costruire una comunità attiva e partecipante che genera al suo interno degli strumenti differenziati a seconda del ragazzo e della persona che ci troviamo davanti. Infatti gli spazi educativi sono quelli dove è possibile organizzare sia un percorso aggregativo dedicato ai bambini attraverso i circoli, le scuole, gli spazi pubblici, i luoghi dove noi generalmente appunto svolgiamo le nostre attività ma sia quello dove l'interazione avviene con più libertà e naturalezza, come i cortiri e le strade. Inoltre l'Arci ovviamente sostiene oltre a questi spazi educativi anche la centralità della scuola pubblica, unico strumento di riscatto sociale e di formazione della coscienza civile. Queste sono due affermazioni molto importanti. Alla scuola però, come abbiamo appena detto, deve potersi accostare a un sistema culturale esterno in modo che la crescita dell'individuo possa intrigarsi con una scoperta del mondo al di fuori delle mura scolastiche. L'Arci propone quindi una pedagogia dell'aggregazione, dello scambio, una pedagogia politica, una pedagogia di comunità. Il Comune ha deciso di mettere in piedi un progetto importante che ha visto una riqualificazione di quella zona e ha visto la costruzione anche di nuove strutture che hanno permesso la nascita di questa fattoria urbana che è un'esperienza se non unica direi la terza o la quarta su tutto il territorio nazionale fattoria che ha una serie di realtà, rappresenta una serie di realtà agricole in città. Cioè la particolarità sta proprio in questo. E come circolo ci siamo dedicati ad un'attività didattica per i bambini dalle scuole di infanzia, materne, elementari e devo dire hanno visitato anche alcune medie per avvicinare i bambini al mondo agricolo attraverso gli orti e al mondo animale attraverso la conoscenza degli animali che sono nelle nostre stalle. La prima fase fondamentale dell'educatore di strada è la conoscenza dell'ambiente. L'educatore di strada deve assolutamente conoscere bene quello che è l'ambiente in cui lavora quindi conoscerlo in tutti gli angoli, gli scorci. Questo cosa vuol dire? Vuol dire ricostruire i profili della comunità. Poi c'è un profilo demografico, poi c'è un profilo anche occupazionale perché noi dobbiamo anche sapere quali sono le attività economiche presenti sul territorio. E poi il profilo istituzionale e dei servizi quindi sapere anche quali sono i servizi sul territorio e dopo aver fatto la fase di raccolta dati la cosa più quella che diciamo che mette un po' a disagio oppure anche la fase più divertente è l'aggancio. Quando noi ci avviciniamo agli utenti che sono gli adolescenti quindi attraverso la parola, attraverso l'ascolto, cerchiamo di capire, di comprendere anche quelle che sono le loro difficoltà e seguire anche quelle che sono le regole della strada perché nella strada ci sono delle regole. Un altro fattore estremamente fondamentale è la continuità. Nel momento in cui noi riusciamo però con la nostra continuità, fino adesso almeno ce l'abbiamo perché questo è il secondo anno, conoscendo anche i gruppi perché ne seguiamo differenti riusciamo a fare il passaggio successivo che è quello dell'entrare in confidenza con loro e di poter proporre delle alternative. L'ultima cosa, voglio solo dire, il vantaggio che l'Arci porta in un progetto educativa di strada. E noi educatori cerchiamo di, in questo spazio, diventare un punto di riferimento adulto positivo in quanto la base fondamentale del nostro lavoro è la relazione ossia senza relazione con i ragazzi non si ottiene nessun risultato e quindi una variabile fondamentale è il tempo ossia prima di poter fare un lavoro con loro c'è bisogno di un tempo per la conoscenza un tempo affinché sia noi conosciamo loro, sia loro hanno la possibilità di conoscere noi e fare in modo che abbiano fiducia di noi perché sennò qualsiasi nostra parola entra da una parte ed esce dall'altra. Gli educatori che stanno in questo posto, c'è una figura femminile che sono io e una figura maschile che è calogero che purtroppo oggi non è potuto venire e inoltre il centro è arricchito dalla costante presenza degli educatori di strada che anche loro sono delle figure di riferimento per i ragazzi dai ragazzi del servizio civile che spesso vengono al centro dai volontari e dai tirocinanti sono tutte figure di riferimento, sono tutte personalità differenti con ruoli differenti che insieme ai ragazzi instaurano delle relazioni significative e i ragazzi hanno una possibilità di conoscere persone differenti che hanno qualcosa di positivo da trasmettere.